LIS 2019, siamo con Daniele Manente, Sales and Marketing Manager di Cars on the Web. Di che cosa si occupa la tua azienda? Cars on the Web si occupa di accompagnare le aziende e internazionalizzare il loro processo di remarketing. Operiamo in tutta Europa e siamo presenti in 50 paesi e abbiamo una buyer base di più di 40.000 clienti. Siamo parte del gruppo americano Car Auction Services Inc., che è un gruppo che opera globalmente in Nord America e in UK e adesso con l'acquisizione di Cars on the Web anche in Europa, con una presenza più importante. Come immagini il remarketing nel futuro? Il remarketing nel futuro, che è già oggi, potrebbe essere già immaginato come un sfruttamento di tutti quanti le differenze di paesi che abbiamo qui in Europa e quindi andare a lavorare sulle differenze paese per ottimizzare i valori esitui dei beni venduti dalle società con cui collaboriamo. Un ulteriore sviluppo potrebbe essere, e sarà sicuramente, quello di certificare la qualità dei prodotti e anche dei geometraggi attraverso tecnologie blockchain che saranno presto disponibili. Grazie. 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 Grazie.